Finalmente a Pavia le forze dell'ordine hanno fatto il loro dovere, hanno arrestato e hanno incriminato le due persone che a novembre avevano investito la consigliera comunale del Partito Democratico, Elena Madama. Finalmente la giustizia potrà iniziare a fare il suo corso. La città di Pavia, se vi ricordate, era rimasta scossa da questo grave incidente, non tanto per il fatto in sé ma per la crudeltà che aveva portato a vedere la nostra concittadina in condizioni di salute disperate. La situazione emozionale che si era creata in città aveva fatto sì che tutte le forze politiche facessero un passo indietro e si cercasse di stare il più in silenzio possibile per permettere alle forze dell'ordine di fare quello che dovevano fare. Oggi siamo arrivati al momento clou, oggi siamo arrivati al momento in cui tutti diciamo evviva, per fortuna, è stata giustizia, speriamo verrà fatta, però in questo momento la cosa che stiamo chiedendo è proprio questa, giustizia. Giustizia nei confronti di Elena, giustizia nei confronti di una città scossa, giustizia nei confronti di tutti coloro che in questo periodo, in particolar modo i familiari di Elena, sono rimasti sconvolti da quello che è successo. Noi non vogliamo fare processi sommari di piazza, vogliamo che queste persone però paghino per quello che hanno fatto. Almeno una volta in Italia vogliamo vedere che alla parola giustizia sia dato il peso che merita.